La dirigente ed una insegnante di una scuola elementare di Rende sono state sentite da agenti della questura di Cosenza, specializzati in fatti riguardanti i minori, per via dell'episodio verificatosi il 18 novembre scorso del bambino di 8 anni lasciato solo in classe perché è iperattivo. Quel giorno a scuola non si presentarono i suoi compagni di classe per protesta, erano così rimasti a casa perché non lo volevano con loro. E' stato il bambino che, tornato a casa, ha raccontato tutto alla madre, addebitando l'assenza dei compagni all'influenza. Il bambino, secondo quanto si è appreso, non lo soffruisce di un supporto educativo scolastico. Il piccolo da soli due giorni frequentava quella classe, dopo esser stato trasferito da un'altra sezione dello stesso istituto. I genitori dei suoi compagni, per protesta nei confronti della dirigente scolastica che aveva disposto questo trasferimento, avrebbero quindi deciso di tenere i figli a casa. La madre ha così deciso di rivolgersi alle autorità, in primo luogo inviando un esposto alla procura dei minorenni di Catanzaro. Sulla vicenda è intervenuto anche il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, che ha preso contatto con il direttore dell'ufficio scolastico per la Calabria, Antonella Iunti. A quest'ultima il ministro ha chiesto di effettuare tutte le verifiche del caso e di riferire precise informazioni su quanto avvenuto in modo da valutare gli eventuali provvedimenti da prendere.